Nella musica swing è sconsigliato l'accompagnamento del contrabbasso in due e se questo può essere talvolta tollerato nell'esposizione del tema non lo è assolutamente nella ripresa dopo i soli il batterista deve tenere il tempo come vedete è chiaramente tutto un po' extreme pesava 55 lire, era altro mezzo metro e che sarà un mic? Scusate, ho aperto una parentesi grazie per essere qui, siamo tantissimi connessi da tutto il mondo partiamo in ordine, il suono abbiamo detto curare il suono è una cosa che deve essere fatta quotidianamente l'importante è come uno ha l'approccio col suono può fare due notte, può fare dei mille, può struccare, non struccare poi un arpeggio going up, going up, coming down vengono fuori delle figate atomiche sembra facile applicarlo sono... grazie a Mari ok, la musica così funziona dopo due ore che suoniamo in un arpeggio ero toccato deludato deludato deludato